Allora, parlo io, Lara, Anna e Greta, forse, che si è appena spostata, e poi Roberto Marchesini. Benvenute, benvenuti, per aiutarvi a capire perché siamo in così tanti, io sono insieme, la cooperativa sociale insieme, Lara rappresenta comunità generative, quel nome che vedete sotto, e poi do la parola ad Artemis attraverso Anna. E non spiegherei cosa fa la cooperativa insieme a Vicenza, qualcuno la conosce, qualcuno no, ma può cercare, insomma. Senza tediarvi su questo, do la all'incontro di oggi solo per spiegare un po' l'intenzione che c'era nel lavorare nella rassegna di Sana Pianta, già da cinque anni fa, quando insieme incontra, e nello specifico Andrea, Fiorenzo, Chiara e Anna, come associazione Artemis, per capire cosa fare insieme sui temi, ormai anche usare ambientali, insomma potrebbe essere una parola riduttiva, e sociali, insomma un pensiero per cercare anche pensieri e parole nuove per definire quello che ci sta succedendo e provare a capire cosa vorremmo che succedesse fra 50-100 anni. Io lo dico come insieme perché uso molto spesso documenti, tante parole scritte, tanti pensieri della nostra realtà che nasce negli anni 70, che parla di queste cose qua, ma ad esempio non cita mai gli animali, non cita mai i vegetali, non cita mai i funghi, e di Sana Pianta ha provato a rimetterle nella discussione, nelle scorse quattro edizioni, e anche in questa. E quindi è un piacere lavorare insieme ancora quest'anno, questo deve essere il terzo evento che abbiamo fatto, e oggi due parole per dirlo. Lascio la parola a Lara, che è la presidenta di un'altra cooperativa che si chiama Tangram, di Vicenza, che però è capofila di un progetto che oggi supporta questo evento, anche economicamente, insomma, e che si chiama Comunità Generative. Siamo brevi, poi diamo la parola ad Anna e poi a Roberto. Buongiorno e buon pomeriggio. Veramente due parole veloci perché è un logo che probabilmente non avete mai visto associato a Di Sana Pianta, ed è un progetto che forse fa anche fatica ad entrare in connessione immediata con la rassegna, perché è un progetto di contrasto alla povertà educativa. Vuol dire che va a supportare percorsi per minori con fragilità, o più o meno fragilità, non solo, diciamo, a star meglio a scuola soprattutto, e a contrastare la dispersione scolastica. Perché a suo tempo, nel progetto che è stato scritto veramente ormai durante il post-covid immediato, nel 2020, avevamo pensato utile il partenariato con Cooperativa Insieme e la stretta connessione contro il mondo educativo e il mondo ambientale e sociale. Spesso vengono vissuti come separati, ma pensiamo che nel contesto anche giovanile e del benessere di ragazzi e ragazze e adolescenti, mai più che oggi forse sia importante rimetterli in collegamento e trovare una forma di pensiero e di cultura, non solo giovanile, ma anche adulta. Quindi anche chi, come dire, accompagna ragazzi e ragazze come adulto, è importante, entri in questa logica, ritorni a considerare un tutt'uno uomo, natura, ma anche in ragazzi e ragazze e ambiente come visione integrata. Quindi, è importante per noi sostenere un percorso e una rassegna come questa, in un'occasione appunto in cui si tratta anche un argomento che pensiamo sia particolarmente calzante. E quindi buon ascolto e tutto. Lascio la parola ad Anna. Grazie. E ce ne abbiamo. Ah, bene, grazie. Ho deciso che leggerò per far fronte all'emozione, dicendo due cose di Roberto. Roberto Marchesini è filosofo, etologo e zoantropologo, direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di Interazione Uomo-Animale, è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo della filosofia, dell'otologia e della bioetica. Lo facciamo dopo allora, no? Se si ha voglia di... dopo. Secondo me dopo. Dopo li lasciamo con... Non so cosa succede dopo, ma va bene. Poesia. Ah, bene, bene, bene. Fatto una sorpresa. Però ti facciamo andare. Prima di tutto grazie, grazie a tutti quelli che hanno organizzato questa iniziativa. Grazie a voi che siete qui presenti. Per me è molto importante, è stato molto importante venire qua. Sono partito da una Bologna disastrata, completamente disastrata da quello che è avvenuto. Molti quartieri sono completamente allagati. Fortunatamente la stazione era operante e quindi ce l'ho fatta. Certamente questo dimostra la situazione ecologica planetaria con cui dobbiamo fare i conti. Io dico sempre oggi l'antropocentrismo è come l'egocentrismo per una persona. Cioè un individuo egocentrico si fa male da solo. Cioè non è che l'egocentrismo è un arricchimento, un rafforzamento, un baricentro per l'individuo. Non è un baricentro, è di fatto una fragilità. Molto spesso noi pensiamo che l'antropocentrismo sia la forza dell'uomo, sia il baricentro dell'uomo, sia ciò che ci sostiene, ci rende diversi da tutti gli altri. E in qualche modo abbiamo paura a mettere in discussione l'antropocentrismo. In realtà l'antropocentrismo è la fragilità dell'essere umano, non la forza dell'essere umano. E quindi oggi più che mai è necessario cercare di capire quali sono i fondamenti dell'antropocentrismo, sapendo che esistono delle resistenze. Io le trovo costantemente, in questi anni c'è una forte tendenza a arroccarsi sulle condizioni antropocentriche. E allora cercherò, in questo incontro che facciamo, di vedere un po' come l'antropocentrismo in realtà sia un'illusione. Partirei con dei punti. Il primo che vorrei sottoporre alla vostra indagine è il concetto di animale. Ora, scusate se mi siedo, così va meglio insomma. Animale. Noi siamo abituati a pensare all'animale come un'entità opposta all'essere umano. Quindi diciamo gli esseri umani e gli animali. E quando parliamo degli animali parliamo di qualcosa che non è umano sostanzialmente. Gli animali. Allora io vi posso dire che nella mia carriera ormai trentennale dietologo non ho mai visto un animale. Non mi è mai capitato di vedere un animale. Ho visto cani, cavalli, gatti, galline, rondini. Ma un animale? No. Perché l'animale in sé non esiste. Non esiste l'animale come contrapposizione dell'essere umano. L'animale, se vogliamo, è una dimensione, è una condizione l'animalità. Ogni specie declina, cioè interpreta l'animalità in una maniera specifica. Quindi potremmo dire che il cane è un modo particolare di essere animali. Il gatto è un modo particolare di essere animali. Poi vedremo e ci divertiremo a vedere le differenze tra i cani e i gatti visto che sono purtroppo accumunati di una parola, a mio avviso, orrenda e pornografica che è pet. Perché è quella parola che distrugge qualunque caratterizzazione. L'essere umano non è altro che una declinazione dell'animalità. Quindi l'animalità non è fatta di qualità visibili. È come se ad un certo momento ogni specie avesse una maschera, si presentasse a noi come cane, come gatto, come delfino, come essere umano. Ma non come animale. L'animalità sta dietro. L'animalità quindi è quella dimensione comune che fa sì che tante specie che hanno delle caratteristiche particolari quella di essere eterotrofe cioè di mangiare sostanzialmente delle sostanze organiche quindi non fare la fotosintesi clorofiliana io quanto sento dire ma l'uomo non è un animale dico cos'è un vegetale cos'è un virus scusate finché l'essere umano mangia, respira e caga è un animale da un punto di vista biologico e da un punto di vista ontologico certo che è un animale ma è una declinazione dell'animalità non è l'animale che noi troviamo in tutte le descrizioni come alcune negative l'animale come essere uno specchio scuro un animale come il brutto un animale come addirittura in certe tradizioni come demone l'animale come entità violenta aggressiva si sente dire quel branco di ragazzi si è comportato come un animale si sono comportati come degli animali come dei colibri come delle mosche no quel concetto di animale è un concetto inventato cioè qualcosa che noi abbiamo inventato per toglierci di dosso tutte le cose che ci erano scomode perché più delle volte quando diciamo si è comportato come un animale in realtà si è comportato come l'essere umano più delle volte quelle caratteristiche il genocidio piuttosto che la guerra eccetera sono pochissime le specie che fanno la guerra e che fanno i genocidi sono veramente poche forse le formiche oppure l'animale come innocente l'animale quindi come un'entità che noi vogliamo in qualche modo individuare e mettere in maniera controlaterale all'umano e quindi non dire gli esseri umani sono uno dei tanti animali cioè sono specifici ma gli esseri umani sono speciali questo è l'errore che noi facciamo nel momento in cui consideriamo l'animalità fatta di qualità particolari perché non possiamo dire che esistono delle qualità comuni a tutti gli animali tutti gli altri animali quale? l'aggressività abbiamo visto no ci sono animali che non sono assolutamente aggressivi la tendenza l'ipersessualità se c'è una specie ipersessuale è l'essere umano semmai il bonobo gli assomiglia un po' ma voglio dire non certo la cicala americana che si riproduce ogni 17 anni fatelo voi ogni 17 anni quindi non esistono dei predicati comuni l'animalità è un metapredicato è qualcosa che sta dietro e che accomuna e che condivide quindi noi dobbiamo emancipare il concetto di animalità per capire esattamente che tipo di rapporto c'è tra noi e le altre specie perché finché l'animalità rimarrà nella concezione umanista e qui vi voglio raccontare una storia perché qual è questa concezione umanista dell'animale beh tutto si rifà a un mito greco fondativo che è quello di Epimeteo e Prometeo Epimeteo riceve le qualità da Atena attraverso Zeus le qualità da dare a tutti gli esseri viventi ed Epimeteo comincia a dare questa qualità quella specie quell'altra qualità quell'altra specie finché rimane senza qualità e si trova davanti all'essere umano dice caspita non ho più qualità si volta verso il suo fratello Prometeo che gli dice come al solito hai fatto un disastro ci devo pensare io ve la metto un po' un po' in maniera anche un po' satirica no? ci devo pensare io ruba il fuoco per plasmare il mondo e dona all'uomo la tecne la tecnica che consente all'essere umano invece di avere delle virtù incarnate come le altre specie di costruirsi degli strumenti che facciano la stessa cosa che gli animali fanno col corpo da questa visione da questo mito ovviamente in convergenza anche con una tradizione abramitica che vede l'uomo come in qualche modo immagine i mago dei immagine della divinità abbiamo il pensiero umanista che è al centro di quello che è la nostra tradizione cioè noi tutti siamo figli dell'umanismo noi tutti siamo figli di quel di quei padri fondatori del quindicesimo secolo quindi Marsiglio Ficino lo stesso Leonardo da Vinci con l'uomo vitruviano quell'entità che si pone come misura del mondo e come anche contenitore di mondo ma soprattutto picco della mirandola che attraverso quest'opera la Orazio De Ominis Dignitate in pratica dice proprio perché l'essere umano non ha ricevuto il dono di Epimeteo proprio perché non ha avuto delle virtù incarnate proprio per questo è libero è libero e può fare qualunque cosa possiede la libertà l'autodeterminazione e quindi diciamo che da qui in poi proseguendo ovviamente da Cartesio Canta e via dicendo fino ad Heidegger l'essere umano è creatore di mondi mentre invece l'animale è chiuso all'interno del suo mondo questa visione ci sembra molto intuitiva come se sì in effetti noi siamo liberi ma perché le altre specie non sono libere davvero le altre specie sono condannate a ripetere esattamente quello che è la loro eredità filogenetica gli animali sono creativi hanno una creatività loro si tratta solo di saperla individuare di saperla vedere siamo noi che vediamo negli animali delle macchine dopo Cartesio e pensiamo che i comportamenti non siano altro che l'espressione di automatismi ma in realtà non è così una cosa che dico spesso è voi pensate che quando insegnate il seduto al vostro cane avete inserito un automatismo e allora come mai il cane se fosse un automatismo lui si siede solamente se voi glielo chiedete e come mai ogni tanto lui si siede per ottenere qualcosa da voi perché non è un automatismo ma è uno strumento il cane ha preso una chiave per poter ottenere qualcosa da te io avevo un amico che diceva io ho insegnato il seduto al mio cane vedevi il cane che si sedeva lui correva a dargli un bocconcino dico guarda che è il cane che ha imparato ti ha insegnato qualcosa a te però la realtà è questa cioè tutte le dotazioni nate e apprese sono conoscenze non sono automatismi sono conoscenze che il soggetto utilizza in un modo più o meno creativo a volte dove le ha prese a volte per tentare qualcosa quando sento dire di fronte a un problema un animale tira a caso ma secondo voi se uno tirasse a caso potrebbe mai risolvere un problema vi è mai capitato di togliervi una cosa semplice non un grande problema togliervi la maglietta e buttarla a caso andrà mai nel posto giusto mai ma non perché sei sfigato si chiama seconda legge della termodinamica cioè in altre parole il disordine è infinitamente più probabile dell'ordine perché il posto giusto è uno e i posti sbagliati sono tutti gli altri quindi è impossibile attraverso un tentativo casuale di ottenere un risultato davanti a un problema ma neanche nella vita quotidiana quindi qualunque animale di fronte a un problema cerca di capire quali delle sue conoscenze può essere utile per risolvere quel problema le prova certamente non ha la soluzione in tasca ma non tira a caso ecco questa idea dell'animale come automatismo pensiamoci un secondo tutte le volte che una qualunque animale fa un percorso ma anche noi stessi ogni volta il percorso è un po' diverso è simile ma non identico ogni volta fai cento volte quella strada farai sempre una strada simile ma con delle caratteristiche di diversità ogni volta quindi non puoi ripetere hai sempre un margine di novità che devi gestire sempre ma questo lo diceva già il nonno di Darwin di Charles Darwin Erasmus Darwin che diceva l'istinto non potrebbe risolvere i problemi di un animale se non avesse anche l'intelligenza per adattare le cose che sa alla situazione specifica quindi io posso riconoscere il nido di un merlo e riconoscerlo da quello di un cardellino posso riconoscere un alveare della vespa crabro del calabrone rispetto all'alveare di un'altra vespa la polistes gallicus sono due alveari diversi certo il piano organizzativo è diverso ma tutte le volte il calabrone deve adattare il proprio nido il proprio piano alla situazione ambientale se sta facendo quel nido in un albero cavo se sta facendo il nido dentro una porcillaia se sta facendo il nido in un'altra situazione tutte le volte il suo piano organizzativo per quanto innato va correlato alla situazione specifica quindi non è frutto di automatismi ecco il la parola animalità quindi va rivista va ridefinita va emancipata dal pensiero appunto di pico della mirandola e poi è sorto tutta una visione umanista per cui l'essere umano è incompleto è mancante e si completa attraverso la tecnologia e la cultura anche questo ci sembra intuitivo salvo poi che la stragrande maggioranza delle situazioni sono controintuitive e non intuitive l'universo copernicano è controintuitivo non è che uno esce per strada dice si effetto la terra sta girando intorno al sole pensa che il sole giri intorno alla terra esiste la scienza perché il mondo fenomenico è controintuitivo non intuitivo se fosse intuitivo non avremo bisogno degli scienziati ci arriveremo da soli noi pensiamo di vestirci perché siamo nudi in realtà al contrario noi ci sentiamo nudi perché ci vestiamo cioè la percezione di carenza è una conseguenza non la causa mi state seguendo io negli anni settanta senza smartphone non è che mi sentivo carente stavo benissimo oggi non potrei vivere senza quell'apparecchio ma non potrei vivere per una semplice ragione che se anche dici ma beh spegnilo lascialo a casa succede qualcosa succede un incidente mi sentirai in colpa di non essere in grado di intervenire ma come non hai c'è il cellulare capite che è il cellulare che mi rende carente è la tecnologia che ci rende carente non la tecnologia non compensa una carenza ma crea una carenza esattamente il contrario tutte le tecnologie hanno creato delle carenze per forza di cose perché spostano il livello della prestazione su un altro piano cioè oggi io devo essere costantemente raggiungibile quindi la prestazione la mia prestazione comunicativa di connessione è stata spostata su un livello più alto quindi se io mi tolgo quella tecnologia non potrò più raggiungere quel livello di prestazione che la società si aspetta da me quindi la visione è compensativa è totalmente sbagliata la tecnologia non compensa delle carenze la tecnologia crea delle carenze crea dei bisogni ovviamente porta dei livelli performativi più alti certo ma da un punto di vista delle mie capacità biologiche mi rende carente perché ho bisogno di appoggiarmi su quella tecnologia per poter realizzare quelle prestazioni che si aspetta da me ma poi c'è un altro discorso se la tecnologia fosse compensativa più si va avanti con la tecnologia e più la tecnologia dovrebbe decelerare perché se compensa arriverà pure al punto in cui ha colmato questa lacuna questa mancanza quindi via via dovrei aspettarmi un trend decelerativo viceversa la tecnologia ha un trend accelerativo esponenziale poi neanche lineare però con questo pensiero umanista è un pensiero che ci fa comodo è un pensiero che si ripete io costantemente sento filosofi sento antropologi sento che continuano a dire l'essere umano è un'entità incompleta che si completa attraverso la cultura quindi è carente imperfetto e quant'altro ma dove dove l'essere umano è incompleto in che senso è incompleto a parte il fatto che questa parola da un punto di vista darwiniano non vuol dire assolutamente niente perché per Darwin per l'evoluzionismo non esiste la perfezione quindi non esiste l'incompletezza ma c'è un altro aspetto fondamentale se facciamo un'analisi descrittiva del corpo umano vediamo che quanto di più specializzato ci possa essere rispetto alle altre antropomorfe abbiamo rimodellato completamente la colonna vertebrale con la doppia S abbiamo riformulato il piede trasformato completamente abbiamo abbassato il laringe abbiamo messo il foro cipitale centrale abbiamo modificato la lunghezza del femore e dell'omero siamo diventati degli specialismi del bipedalismo abbiamo sviluppato siamo arrivati a quasi 80 90 miliardi di neuroni dove siamo carenti in che senso siamo carenti moltissime sono le caratteristiche biologiche dell'essere umano che dimostrano che non esiste una carenza anzi una grande specializzazione dell'essere umano da tantissimi punti di vista cioè se posso parlare è perché si è abbassato il laringe perché se non si fosse abbassato il laringe non potrei emettere dei suoni articolati perché si è modificata la lingua si è modificata tutta la struttura del faringe se no non potrei emettere altro che dei versi quindi tutto questo ha cambiato profondamente l'essere umano quindi animale animali siamo noi certo siamo un certo tipo di animale se vogliamo un animale bellissimo o un animale orrendo un animale particolare ma non siamo altro che una declinazione dell'animalità un modo in cui l'animalità si presenta poi se avete le domande ditemi sono troppo teorico riuscite a seguirmi ditemelo perché a volte dice non si capisce niente di quel che dice non vorrei mai alterità che cos'è un'alterità quando io vedo un'altra persona quella persona come dice il filosofo Levinas è un'alterità è un'alterità perché io mi specchio in lei in quella persona ma nello stesso tempo quella persona mi riporta un'immagine differente quindi l'alterità si basa su due qualità il soggetto diverso un'alterità è un soggetto diverso quindi è lì che dobbiamo cercare di capire cosa vuol dire essere un soggetto e cosa vuol dire essere diverso partiamo dal soggetto quando io sento quando sento che si dice gli animali sono soggetti e molto spesso lo si dice così certo gli animali sono soggetti non sono come questo tavolo questi animaletti qua che abbiamo sì certo l'animalità è soggettività ma cosa vuol dire soggettività vi darò due definizioni fondamentali innanzitutto è soggetto il soggetto è portatore di interessi propri cioè un soggetto ha degli interessi da difendere e da raggiungere questo è l'aspetto più importante l'aspetto affettivo della soggettività ha degli interessi propri se tu prendi a calci l'automobile di un tuo amico fai un danno al tuo amico all'automobile non gli può fregare di meno ma se tu prendi a calci il suo cane fai prima di tutto un danno al cane poi ovviamente anche al tuo amico ma prima di tutto è il cane perché? perché il cane ha degli interessi l'automobile no l'automobile in sé non ha degli interessi gli interessi sono di due tipi i sentimenti e le passioni la base i sentimenti è ciò che provi ciò che senti dalle situazioni che ti circondano provi gioia provi paura provi un senso di sicurezza gelosia rabbia rancore certo questi sono sentimenti che appartengono al soggetto cioè il soggetto quando si trova in una situazione prova delle emozioni prova delle emozioni sulla base del fatto che ha degli interessi propri quindi che ne so la paura è percepire che i propri interessi sono a rischio la tristezza è percepire che i propri interessi sono stati compromessi la rabbia è percepire che i propri interessi sono contrastati da qualcuno e via dicendo le emozioni la soggettività si basa sull'essere emozionati cioè il sentire il provare qualcosa di fronte alle situazioni e quindi l'essere in una certa condizione rispetto alla situazione è una situazione molto complessa perché non è solo che la situazione ti provoca le emozioni è anche come tu stai in un certo momento lo dico sempre scherzando se hai appena vinto il super enalotto e vai sopra una merda ci ridi se ti hanno appena licenziato e vai sopra la stessa identica merda ti incazzi quindi non è la merda in sé ok la merda semplicemente ti richiama l'attenzione emozionale e tutto dipende da come stai quindi le emozioni sono qualcosa di molto più complesso e articolato rispetto a un semplice sentire ciò che c'è all'esterno ma è conformarsi a ciò che sta all'esterno è un condividere o un essere coinvolto rispetto a ciò che sta all'esterno molto spesso le emozioni dipendono anche non solo dall'umore anche dal carattere ci sono soggetti più irritabili soggetti più paurosi soggetti più esuberanti guardiamo i cani per esempio no? quante tipologie no? emozionali ci troviamo al di là di quello che succede abbiamo il cane timido abbiamo il cane timido e curioso come lei abbiamo il cane diffidente abbiamo il cane che vuole il coccole da tutti quindi vedete che costellazione emozionale c'è e ovviamente questo è il rapporto poi se sto male le emozioni negative prevalgono rispetto a quelle positive quindi è più facile suscitare in me un'emozione negativa piuttosto che positiva quindi diciamo che la vita emozionale di un soggetto estremamente complessa non può essere individuata in maniera deterministica cioè come questa penna se la lascia andare sicuramente cade per terra la vita emozionale no è fluttuante è imprevedibile è complessa e da questo è imprevedibile le passioni e questo è un argomento che mi è sempre piaciuto molto nel senso che gli animali sono entità desideranti cioè sono entità che costantemente vorrebbero qualcosa sono portate verso qualcosa sempre e lo fanno attraverso delle azioni o attraverso il gioco perché il gioco non è altro che una manifestazione della condizione desiderante però vorrei dirvi una cosa ancora una volta io mi scontro con molti diciamo studiosi del nostro tempo molto anche conosciuti sul concetto di desiderio perché sempre si pensa che desideriamo qualcosa cioè che l'entità desiderante vuole ottenere qualcosa vuole appropriarsi di qualcosa e che quindi il desiderio sia di fatto un processo appropriativo che nasce da una mancanza desidero questo perché mi manca questo la realtà non è così l'oggetto del desiderio è sempre una conseguenza del desiderante non è la causa il gatto non vuole la pallina credetemi non vuole la pallina tu gli dai la pallina lui la tocca con la zampa la mette in movimento perché il gatto vuole rincorrere non vuole la pallina la pallina è solo ciò che gli consente di realizzare quel predicato verbale perché i desideri sono predicati verbali non sono nominali sono verbali non sono neanche complementi oggetto o la pallina sono predicati verbali cosa fa il gatto rincorre a cosa piace al gatto rincorrere e poi cosa gli piace saltare poi cosa gli piace nascondere sono tutti i verbi vedete non è una mancanza in riva al mare vedi le persone col secchiello che raccolgono delle conchiglie e pensi sono mancanti di conchiglie poi quando li vedi tornare all'ombrellone più delle volte le lasciano lì le buttano via perché le conchiglie sono come la pallina del gatto cioè sono quelle entità che ti permette di fare una cosa che piace molto agli esseri umani raccogliere cioè noi in tutto per tutto i nostri desideri sono proprio legati a questa attività raccogliere non per avere perché molto spesso raccogliamo poi ce ne dimentichiamo ma è bello raccogliere e da lì viene fuori tutto dal dalla persona che raccoglie dal bambino che raccoglie i fiori dal bambino che raccoglie le conchiglie da quello che va alla ricerca dei funghi quello che fa uno shopping compulsivo quello che sta costantemente su ebay quello che tutti i mercatini io sono fatto così quando vedo un mercatino di quelli della roba antica eccetera cioè io proprio sono attratto cioè sento proprio l'attrazione siamo raccoglitori una cosa che ci piace è quella abbiamo altri predicati verbali tendiamo a imitare tutto quello che vediamo se metti un bambino davanti una pendola dopo un po' anche lui fa così imitiamo tutto siamo fortemente portati alla cura quello che i greci chiamavano epimelesi da epimeleomai che vuol dire prendersi cura e che grandi filosofi come Socrate per primo Platone Aristotele e poi Heidegger hanno messo al centro dell'essere umano la cura l'aver cura davanti a un cucciolo subito andiamo in tenerezza che vuol dire quell'emozione che proviamo quando abbiamo voglia di adottare qualcuno di prendercene cura di alimentarlo quindi l'epimelesi ma guardate quanto è importante comprendere che i nostri desideri sono verbi e non oggetti quanto ci migliora la vita nel momento in cui capisci che non hai bisogno di oggetti ma hai bisogno di azione di fare di agire che i desideri sono dell'inneschi all'azione non all'appropriazione quindi chi è più felice nell'espressione desiderante chi si dedica a qualcosa chi si dedica a una passione chi si dedica a un'attività chi fa della propria vita un dono quello diventa felice tu potresti avere tutti gli oggetti di questo mondo non sarai mai felice perché l'appropriazione non risolve i tuoi bisogni non risolve le tue passioni ma è la donazione il donarsi che rende la persona soddisfatta non so se è felice ma soddisfatta ecco il soggetto è mosso da sentimenti e da passioni è un'entità sentimentale e passionale nel senso autentico e direi buono del termine perché molto spesso si dice ti devi liberare dalle passioni no devi evitare che le tue passioni si trasformino in un'appropriazione perché la passione nel donarsi è una passione che assolutamente non ti fa star male non stai male tu e non fai star male gli altri quindi il soggetto è prima di tutto un'entità affettiva affettiva da affectus cioè sentimentale e passionale il secondo aspetto della soggettività ve l'ho detto prima un animale è un soggetto in quanto tutte le sue dotazioni innate e apprese sono conoscenze non automatismi cioè sono strumenti che il soggetto utilizza e in questo senso parliamo di una visione cognitiva che vuol dire conoscenza una visione cognitiva del soggetto ora in questo modo vediamo completamente l'apprendimento ma ne voglio parlare dopo soggetto queste due cose sono la base della soggettività l'affettività la cognitività l'essere portatori di interessi propri e avere tutte le dotazioni come strumenti d'uso e non come automatismi che mi muovono diversità e qui entriamo nel discorso del pet allora come ho detto è una parola che banalizza gli altri animali non è assolutamente vero che la nostra società è più vicina alle altre specie non è vero cioè magari nel mondo rurale non si era molto attenti sulla senzienza magari era diverso il mondo rurale è un mondo duro duro per esseri umani e per gli altri animali duro per tutti ma i bambini crescevano in mezzo alla natura crescevano lì in mezzo fin da piccoli e sapevano cos'era un cane cos'era un gatto cos'era un asino cos'era una gallina perché la vivevano noi siamo una società almeno dai baby boomer dai boomer no? così ci definiscono no? vabbè dai boomer in poi siamo venuti su in un mondo di giocattoli cioè in un mondo analogico cioè dove al posto dell'animale c'era il peluche dove al posto del rapporto diretto c'era Walt Disney dove al posto degli animali c'erano le figurine degli animali analogico cioè un'analogia non la realtà siamo cresciuti pieni di oggetti che rappresentavano che figuravano in un modo specifico perché nel mondo di Disney la natura è l'armonia universale tutti si vogliono bene non c'è niente di problematico è una immersione nello zucchero no? la visione disneyana è estremamente edulcorata estremamente zuccherata e noi siamo venuti su in questa visione quasi da Leibniz no? che viviamo nel mondo migliore possibile in un mondo dove tutti si vogliono bene e dove l'ho visto dove le anatre danno a mangiare alle carpe no? l'ho visto? no? le anatre per mangiare buttano il cibo nell'acqua e le carpe che sono furbe hanno capito non è che l'anatre danno a mangiare alle carpe ma sta roba qua ci piace il predatore che gioca con la preda si vogliono bene e poi il mondo fantastico dove gli animali rappresentano i vizi virtù dell'essere umano il mondo di Beatrix Potter no? il mondo delle raffigurazioni di Granville ecco questo mondo qua un tempo dice ma ci sono sempre state le fiabe certo 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 c'era Esopo c'era Fedro La Fontaine è sempre stato il mondo del fantastico ma accanto al mondo del fantastico c'era il mondo reale oggi i ragazzi non crescono più non crescono più nel mondo reale quindi per loro il mondo fantastico è il mondo reale questa è la realtà quindi diciamo che non esiste più il cane e il gatto esistono i pet cioè questi queste entità da affezione da compagnia come se effettivamente vivere con un cane con un gatto volesse dire avere compagnia avere affetto e non volesse dire migliaia di altre cose cioè però pensateci veramente si riduce tutto all'affetto e alla compagnia allora siccome io ho sempre veramente una vita un po' disastrata piena di incontri persone eccetera no bisogno di compagnia vi assicuro ma bisogno per niente non ho bisogno di compagnia va dalla ricerca di momenti di solitudine di silenzio totale dice allora hai bisogno di affetto neanche non è che sono proprio un affettuoso io insomma stando a questa situazione avrei mai avuto cani e gatti oppure quelli che pensano che siano entità compensative cioè non hai figli quindi hai il cane se hai il cane vuol dire che non hai figli come se i due termini fossero inversamente proporzionali come se i due termini fossero inversamente proporzionali per cui arrivi all'assurdità di dire che i cani e i gatti riducono la natalità cioè ma pensiamoci prima di parlare cioè mi sembra una roba dice aspetta che mi informo prima dove si trovano soprattutto cani e gatti nelle famiglie con bambini sono le famiglie con bambini quelle che con più facilità hanno cani e gatti e chiunque l'avrà sperimentato da genitore che c'è il figlio che dai prendimi un cane dai prendimi un gatto certo è così è così i due termini non sono inversamente proporzionali sono direttamente proporzionali quindi andiamo a cercare da qualche altra parte il problema della denatalità se è un problema ma andiamo a cercarlo da qualche altra parte non sono i cani e i gatti che producono la denatalità il pet il pet ovviamente viene trasformato in un peluche in una cosa in un oggetto oppure viene trasformato in maniera antropomorfica quelli che il cane e il gatto sono i loro figli a Bologna c'è gente che porta in giro il cane dentro il passeggino porta il cane che avrebbe bisogno di fare almeno 10 km di passeggiata al giorno tu me lo porti fuori in passeggino quindi provate a immaginare l'assurdità di questa incapacità di capire la diversità perché alterità vuol dire sì soggetto ma soggetto diverso cioè portatore di proprie caratteristiche e con la parola pet queste vengono assolutamente distrutte se non banalizzate guardate perché io generalmente quando mi chiede la televisione di andare a fare un intervento quasi sempre dico di no perché mi sono stufato cioè entri dentro non riesci a dire niente non so se qualcuno ha visto quella volta che mi hanno chiamato in quella trasmissione dove si è fatta vedere la spa dei cani tutte queste cagate pazzesche perché uno che si prende il collarino agli svaroschi è un deficiente e basta come se veramente fosse questo quanti soldi spendiamo per i cani ma ai cani non gli ne frega niente del collarino con gli svaroschi o della cucetta stile liberty o della spa cane se un labrador avrebbe una gran voglia di buttarsi dentro una pozzanghera e di sporcarsi per bene e di rivoltarsi sopra un bel topo morto per mettersi un po' di profumo e se possibile anche su una merda che non basta quindi sai quanto gliene frega del tuo profumo o della tua spa zero però viene questo c'è una trasmissione non dico quale dove mettono tutte le musichette no papara papara papá ok questi sono gli il rapporto che abbiamo con le altre specie proprio trasformarle in maniera ridicola un rapporto che è stato fondamentale nella storia dell'umanità l'abbiamo ridotto a una sciocchezza dove gli animali vengono antropomorfizzati trasformati in quelli che non sono in quello che non sono non puoi prenderti un cane e non pensare che è un cane non è un bambino, è un cane significa che per lui quello che per te è un angolo lurido dove qualcuno ci ha pisciato e magari anche vomitato sapete certi angoli luridi per lui è la vetrina più bella che ci possa essere c'è qualcosa che assolutamente vuole annusare magari dagli anche qualche colpetto di lingua poi ti viene a baciare va bene è tutto esercizio immunitario ma questo è ciò che piace ai cani cioè conoscere le loro caratteristiche la loro tendenza olfattiva cioè a noi piace l'odore della delle dei fiori ci piace l'odore dei frutti certo siamo raccoglitori tendenzialmente frugivori questa è la nostra storia abbiamo mangiato tanta frutta siamo cresciuti mangiando questo questo infatti il dottore non ti dirà mai mangi meno frutta scopritemi quel dottore quel dietologo che ti dice mangi meno frutta perché proprio il tuo intestino è fatto per mangiare quella roba lì quindi gli odori che fanno capo ai fiori ciò che viene prima della frutta la frutta e magari quello che viene dopo la frutta l'alcol ci piacciono ma fa sentire la grappa al tuo cane mamma mia che puzza è così al cane piace Aldi piace un topo morto una carogna che per lui è qualcosa di fenomenale è un profumo pazzesco è ovviamente escremento soprattutto di erbivoli ma anche dell'uomo gli piace moltissimo la merda umana moltissimo molto probabilmente questi lupi che sono avvicinati all'uomo hanno costruito un periodo di transizione prima della domesticazione erano attratti soprattutto dalle feci umane bisogna stare molto attenti perché un attimo e lasci lì il cane un secondo se c'è una merda tac ce l'ha già in bocca ok io volevo fare un dopo dopo ti entra le domande io perdo il filo e faccio fatica a recuperarlo e quindi se tu mi lavi il cane gli metti un po' di profumo per lui una puzza incredibile perché è base alcolica su cui ci sono degli oli essenziali insomma è una roba che e lui andrà alla ricerca della prima merda per togliersi quella puzza tremenda che gli hai messo addosso e allora noi diciamo eh ma fate i dispetti no perché siamo fenomenali no l'interpretazione è proprio completamente rivoltata la diversità la diversità è una diversità percettiva il mondo che sentono loro che vedono loro è diverso dal nostro la percezione del mondo di un cane di un gatto è diversa da quella dell'essere umano l'estetica è diversa ciò che gli piace è diverso è diversa anche la comunicazione noi pensiamo che l'abbraccio voglia dire in tutte le lingue ti voglio bene quindi se vediamo un cane lì tranquillo lo andiamo ad abbracciare perché vuol dire che gli vogliamo tanto bene il cane ci morde è uno stronzo è potenzialmente pericoloso no tu sei andato lì gli hai detto sono più forte di te il cane ha detto vediamo perché l'abbraccio somiglia a una monta gerarchica per il cane non esiste che i cani si abbracciano se non quando vogliono sfidarsi quindi non esiste questa cosa oppure mettere la faccia visto quelle persone che mettono la faccia attaccata al cane e si prendono un bel morso sul naso eh sì caro mio eh cioè provate a immaginare se andate al bar e iniziate a fissare uno così magari gli andate vicino da un po' così allora c'è tutta la comunicazione cioè noi non sappiamo interpretare quello che ci sta dicendo e diciamo delle cose che il cane dice boh non riesce a capire perché per dire di andare di là guardiamo di qua dice dai andiamo e guardi di là per il cane dice allora andiamo di là tutta la comunicazione è sbagliata completamente e poi l'aspetto più importante è la socialità e qui è fantastico perché ci troviamo di fronte al cane e al gatto che sono completamente diversi da noi e tra loro da un punto di vista della socialità sono tutte e due animali sociali non fatevi dire che il gatto è un animale solitario perché non è vero e chiunque è un gatto lo sa perfettamente che non è solitario poi ci sono alcuni gatti che gli anglosassoni chiamano gli americani poi chiamano mojito cat che sarebbe quel gatto che te lo trovi sempre intorno come se andassi alla ricerca di un mojito sono diversi e il cane ha una socialità prevalentemente collaborativa cioè si aspetta di fare delle cose con te ovviamente ci sono differenze tra cani e cani non pensate che i cani siano tutti uguali perché sono differenze enormi per un border collie che è un conduttore di gregge fare qualcosa con te significa movimento cioè quindi propongo ingaggio mi muovo e hai quel cane che quindi io non lo potrei tenere un border collie perché mi farebbe sarebbe la mia criptonite verde sostanzialmente è uno che costantemente ti sollecita quindi c'è un mio collaboratore che quando viene già al border collie se io sto lavorando in giardino che devo fare delle cose so che è finita perché lui prende la pallina e me la mette lì qua faccio finta di non guardarla lui la prende e me la mette lì e poi abbiamo ovviamente i molossi che dicono ma sono potenzialmente pericolosi non sono potenzialmente pericolosi devono essere dati in mano a persone che abbiano una consapevolezza di so che sono non li puoi dare a un ragazzino idiota che va a fare delle cose sbagliate hanno bisogno di figure di riferimento impostate solide sono come degli adolescenti a cui piace fare la lotto avete presente andare davanti a una scuola media inferiore e guardare i maschi cosa fanno la lotto si spingono e quindi che ne so io se ho avuto Rottweiler gli piace fare il gioco del tir e molla e quello gli piace ma non è che vuole vincere vuole giocare se io smetto di tirare i cani mi guardano come dire ma no così non c'è gusto non solo devo anche ringhiare adesso non lo faccio perché non voglio spaventare i cani presenti ma quando facciamo il gioco del tir e molla tutte e due ringhiare come dei matti qualcuno che ci vedeva diceva questi sono pericolosi tutte e due ci sono cani che se tu gli tiri una pallina la prendono e si nascondono sotto il letto non li vedi più per mezza giornata perché la loro tendenza possessiva va a mille ci sono cani che se un molosso se gli tira la pallina viene verso di te e dice prova a prendermela fa il riporto così non fa il riporto prova a prendermela oppure te la mette vicino quando tu ti pieghi te la riprende e poi ci sono ovviamente cioè il labrador io adesso ho un labrador se guardi qualcosa dici vuoi quello cioè quando arrivo non è che arriva a fare le feste prende un oggetto e viene quindi ci sono delle caratteristiche una persona che adotta un certo tipo di cane dovrebbe prima sapere se sei in grado di stare quel cane perché non puoi prenderti un labrador e volere il cane pulito perché il labrador è la versione canina di Peppa Pig quindi c'è una pozzagra e si va dentro è chiaro se sei un po' nervosetto non ti prendere un Jack Russell che è sempre lì con le orecchie tirate in avanti al primo rumore va 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 cioè quello è allora conoscere perché non si può pensare è un pet è un cane è un cane con una storia con generazioni e generazioni in cui sono state selezionate determinate caratteristiche non solo morfologiche ma anche comportamentali lo devi sapere il gatto ha una socialità conviviale io dico è un animale da aperitivo ok cioè viene da te quando o ti vede lavorare e quindi voglio vedere quello che fai e si piazza lì si diverte un mondo a vederti proprio si mette lì a guardarti cioè è affascinato dal fatto che tu stai facendo qualche cosa e quindi la curiosità entri dentro con qualche cosa una borsa lui si fica dentro la borsa cos'è che hai portato fai una scatola è già dentro poi ha una capacità di prendere la forma cioè entra dentro dei vasi ma come è fatto ad entrare lì dentro o si nasconde in posti improbabili quando ti vede non fare niente che sei lì disteso sul divano dice questo qua è in regressione aspetta che vengo anch'io e inizio a impastare siamo tutti e due regrediti in mondi diversi ma tutti e due regrediti ecco questa è una dimensione conviviale che va conosciuta è diversa da quella del cane non è sovrapponibile quello che ti dà un gatto è diverso da quello che ti dà un cane è diversissimo il cane il gatto è venuto verso di me e io inizio a carezzarlo dico guarda è venuto verso di te per stusciarsi che è una cosa diversa dall'accarezzare ma come il gatto non vuole essere accarezzato poco se è possibile col dorso ma questa roba qua che ripeti 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 e mi carichi elettrostaticamente quel gatto che se gli metti una spina nel culo ci accendi il palazzo a lui non piace quindi è chiaro che prima possibile si volta e ti dà una zampata e non è traditore sei tu che hai esagerato conoscere queste caratteristiche quindi questo concetto di pet è un concetto totalmente sbagliato scorretto perché non ti fa capire realmente l'autenticità del rapporto quello che c'è veramente dietro quel rapporto non puoi volere il gatto e lasciare fuori dalla porta la felinità perché il gatto è felinità cioè significa che salta sui tavoli salta mentre stai facendo da mangiare che rincorre qualunque cosa che di sera sembra matto sembra spiritato cioè devi conoscere queste caratteristiche i gatti hanno bisogno di muoversi di verticalizzare di muoversi devi costruire dei posti in modo tale che lui possa anche muoversi in altezza dice vabbè adesso devo fare tutte queste cose per il gatto pensa che un tempo viveva libero in una corte rurale la tua casa per quanto tu ci possa lavorare non sarà mai piacevole come poteva essere per lui vivere in una corte rurale questa è la cosa poi se hai più gatti lo devi fare devi aumentare la viabilità di flusso sappilo perché altrimenti ci sono quei gatti che dice vanno perfettamente d'accordo invece non è vero c'è solo quella strada lì per andare alla cassettina l'altro gatto si mette qua voglio vedere se passi fanno mobbing allora se hai dato la possibilità al gatto di muoversi anche su altre dimensioni vedi che subito le cose migliorano perché poi se i gatti stanno male iniziano a essere irritabili iniziano a marcare maggiormente iniziano quindi vedi che c'è un problema e non è che lo risolvi dici picchiando il gatto perché quelli che dicono pisce pisce in giro io lo picchio bravo così pisce di più perché più si sente una condizione di precarietà più lui andrà a marcare la situazione o quelli che mettono il cane quando è piccolo che ancora non è in grado di capire di farla fuori di saperla fare fuori di controllarsi gli mettono la faccia dentro l'urina ma sarebbe come se tu spalmassi il pannolino di tuo figlio sulla faccia guarda e non lo fai più che senso ha allora per me la banalizzazione è qualcosa che è il grande limite della nostra società che è una società dove gli animali non hanno più cittadinanza vera cioè non sono più realmente cioè non c'è più un rapporto reale concreto dove io ti incontro per le tue caratteristiche ma l'essere umano pretende di trasformarlo in quello che vuole in quello che vuole lui e questo secondo me è una perdita una grossa perdita per quello che secondo me è uno degli aspetti centrali della storia dell'umanità vale a dire nella storia dell'umanità l'essere umano ha sempre osservato le altre specie perché l'essere umano come ho detto prima è particolarmente imitativo è particolarmente astrattivo cioè ha delle qualità particolari l'essere umano sempre nell'animalità ma ha delle particolarità in maniera molto forte cioè quando l'essere umano vede gli uccelli inizia ad aprirsi in lui in una dimensione esistenziale cioè gli uccelli non ci hanno insegnato come volare gli uccelli ci hanno insegnato che si può volare questa è la differenza cioè ci hanno aperto una dimensione esistenziale possibile che poi noi all'inizio non eravamo in grado di tradurre in macchine volanti non c'è riuscito neanche Leonardo da Vinci che ha pensato appunto al suo ornitottero ornitos viene da punto uccello però abbiamo riempito il mondo di entità angeliche che volavano di levitazioni cioè abbiamo aperto la dimensione esistenziale possibile quindi il rapporto con le altre specie è stato estremamente importante nella storia dell'umanità perché la grande maggioranza delle espressioni culturali dell'essere umano nascono dal rapporto con le altre specie quindi il processo ideativo non è mai un processo autarchico solipsistico autonomo questo è quello che voglio dire certo l'essere umano ha dentro di sé la voglia di muoversi la ritmica però poi per inventare una danza guarda un rituale di corteggiamento e lo ripresenta non è un caso se c'è tutta una ricerca antropologica ed etologica antropologi ed etologi che sono andati sul campo e hanno visto che quella danza di quella popolazione è uguale identica al rituale di corteggiamento di una specie presente in quel territorio che ne so la danza masai è identica al rituale di corteggiamento della gru coronata le danze ladine riprendono esattamente il rituale di corteggiamento del gallo forcello e potrei continuare la musica la musica riprende gli armonici e i fraseggi che sono presenti soprattutto negli uccelli la moda il vestirsi i grandi costumi andate a vedere nei costumi tradizionali vedete che vengono ispirati sempre da delle presenze animali le figurazioni tutte le figurazioni dell'arte marziale dello yoga sono state prese osservando la natura e gli altri animali quindi la cultura è il frutto della relazione dell'essere umano con le altre specie ovviamente questa relazione è stata fondamentale ed è fondamentale è la fonte del nostro immaginario cioè non significa che noi siamo dei contenitori vuoti significa che la nostra tendenza a imitare a osservare a rappresentare quando si relaziona col mondo animale riceve dei modelli si costruisce dei modelli e rappresenta gran parte della tecnologia e in fondo il mito di Prometeo e Pimeteo in qualche modo ce lo ricorda perché Prometeo dice do all'uomo la tecne così potrà produrre degli strumenti che si ispirano alle virtù che tu hai dato agli animali quindi vedete che c'è ancora una correlazione tra le caratteristiche e le qualità che Pimeteo ha dato agli animali e le qualità prometeiche dell'essere umano che costruisce delle tecniche che si ispirano alla presenza degli animali ecco io credo che questa difficoltà questa tendenza dell'essere umano a chiudersi in se stesso non aver più rapporti con il mondo della natura è con gli animali veri perché i pet non sono più animali veri sono animali che sono stati gli è stata tolta l'anima gli è stato tolto quello che sono non perché loro non siano più così ma perché noi non li vediamo più perché una persona che vede in un cane in un gatto un bambino il cane e il gatto non lo vede più vede quello che vuole lui la persona che antropomorfizza non vede ha trasformato il cane e il gatto in uno specchio vede se stesso c'è solo l'aspetto immedesimativo non c'è l'aspetto di conoscenza l'aspetto immedesimativo dovrebbe essere il primo approccio l'inizio ma invece rischiamo e dall'altra parte dall'altra parte c'è appunto questa tendenza a continuare a pensare agli altri animali come a degli automi come delle macchine e quindi una cosa su cui ho voluto lavorare molto è stata l'idea di andare oltre questa visione degli automatismi e emancipare l'animale da questa visione l'animalità da questa visione partendo da alcune cose un lavoro che per me è molto importante e che qui vi ho portato è quello sull'apprendimento perché è importante è importante perché purtroppo quello che io mi sono reso conto è che noi ragioniamo ancora con un apprendimento esclusivamente basato sulla legge dell'effetto solo questa legge ma non solo per gli animali ma anche per gli esseri umani cioè ai nostri figli pretendiamo di insegnare storia geografia scienza in questo modo se fai se fai l'interrogazione e prendi un buon voto avrai un premio se prendi un cattivo voto avrai una punizione punto quindi la cosa che interessa ai ragazzi alla fine che cos'è prendere un buon voto piuttosto che un cattivo voto ma non la lezione non gli interessa la lezione la lezione è solo funzionale per il buon voto ma non ha un interesse in sé la lezione ma è possibile che le persone studiano storia romana che ne so le guerre puniche alle elementari alle medie inferiori alle medie superiori l'ha studiata tre volte e se gli chiedi sai qualcosa delle guerre puniche ti guardano come se tu avessi detto una parolaccia e l'hai studiata tre volte vuol dire che te l'hanno data come fibra l'hai mangiata e l'hai cagata tre volte non l'hai minimamente metabolizzata non la potevi metabolizzare perché tutto il tuo orientamento era il buon voto non era lo studio lo studio era assolutamente strumentale per arrivare al buon voto lo studio non ti interessava minimamente non hai costruito delle attività basate anche su tutte le altre leggi dell'apprendimento come per esempio il fatto che se coinvolgi qualcuno da un punto di vista motivazionale se c'è coinvolgimento dall'altra parte avrai risultati se poni un problema la risposta sarà interessante ma se tu non la poni in maniera problematica perché mi dovrebbe interessare la risposta cioè io a scuola insegno una cosa ma non pongo il problema sarebbe come se andassi in giro per Vicenza dicendo sono le 11 sono le 11 sono le 11 prima o poi qualcuno mi dice ma sei matto chi te l'ha chiesto e noi stiamo facendo così a scuola cioè noi diamo delle risposte senza sollecitare delle domande non creiamo il coinvolgimento per me questo è assurdo allora io quando che ho lavorato con dei ragazzi per tanti anni perché ho iniziato così studiando d'etologia parallelamente a veterinaria la studiavo con Giorgio Celli qualcuno se lo ricorda faceva le trasmissioni televisive un grande etologo e lavoravamo sugli insetti sociali lui era appassionato di api io era appassionato di vespe ci punzecchiavamo appunto essendo tutte e due nel mondo degli menotteri e io dicevo no ma le api le api meglio le vespe e naturalmente però in un certo momento ci siamo detti ma ma i ragazzi conoscono perché mi sa che non sanno riconoscere un'ape da una vespa cioè siamo ripastiti da una cosa ecco come non sanno riconoscere un'ape da una vespa sì poi alla fine ho notato che sì effettivamente la grande maggioranza delle persone non riconosce un'ape da una vespa nonostante il fatto che con le api ci abbiamo convissuto per diecimila anni e non sappiamo riconoscere cioè se tu vai a vedere un'ape una vespa tirano a caso il più delle volte le persone si dice come è una vespa è gialla con le strisce nere sarebbe contento se ti rispondessero così il problema è che quando dici come è un'ape è gialla con le strisce nere l'ape non è gialla con le strisce nere e allora il il grande problema è ci siamo detti andiamo nelle scuole a insegnare e a entusiasmare perché se io vedo un ragazzo che esce con gli auricolari cioè quando mai sentirà il canto degli uccelli quanto mai veramente sarà interessato cioè noi vogliamo fiare l'ambientalismo senza ambiente vogliamo difendere gli animali senza gli animali questo è l'assurdità del nostro modo di essere antropocentrici perché tante volte vedo tanti antispecisti animalisti eccetera che in realtà sono antropocentrici sono fortemente antropocentrici allora dire l'entusiasmo l'entusiasmo per me è la cosa importante è fare in modo che i ragazzi siano interessati alla natura alle piante agli insetti agli uccelli siamo andati nelle classi a fare questi progetti abbiamo costruito dei corti che abbiamo lasciato alla scuola è andato tutto bene vi assicuro delle cose che non avrei mai immaginato cioè avevo i ragazzi ma non è per vantarmi vi giuro è proprio così facevano il picchetto all'uscita non mi volevano far uscire mi hanno mandato in certe situazioni davanti a delle classi problematiche ma gravi sono stato a Scampia a Villa Ricca a Palermo in posti dove c'erano delle classi tremende ricorderò sempre una volta a Villa Ricca un bambino da lontano è venuto verso di me che era appena arrivato mi ha fatto guardare e fa ma tu che cazzo vuoi qua ok ne parliamo e il mio alla fine erano tutti entusiasti e proprio i ragazzi che davano più problemi erano quelli più entusiasti di quello che si facevano ma perché perché gli facevo partecipare perché gli chiedevo se c'era un cane se c'era un gatto se conoscevi quell'animale parla vieni a dire qualcosa della tua vita delle cose che ti piacciono ti faccio vedere una cosa che non hai mai visto i ragazzi sono estremamente ricettivi ma non li devi rendere passivi perché se li rendi passivi tu gli uccidi l'entusiasmo glielo uccidi proprio e allora tu vuoi riempirli inutilmente di informazioni che non restano ti assicuro non restano perché la cosa più importante nella vita è la passione per lo studio perché lo studio è la cosa più bella che ci possa essere ma tu questa passione non devi distruggerla in quel modo come se fosse una punizione studiare come se tu fossi imboccato come fanno purtroppo con le oche allora ragazzi che erano entusiasti al di più di quello che mi sarei immaginato vabbè eravamo contenti siamo tornati l'anno dopo per proporre nuovi progetti e l'insegnante ha detto bellissimo è stato bellissimo i ragazzi hanno veramente appreso tantissimo ma c'è qualcosa dico cosa questa classe è più unita questa classe partecipa di più i testi che siano disegni che siano temiche sono molto più ricchi i ragazzi non hanno più paura venire a spiegare qualcosa la loro comunicazione è molto più spontanea partecipano di più cioè noi eravamo andati lì per insegnare a migliorare la relazione con gli animali educare la relazione con gli animali avevamo fatto educare attraverso la relazione cioè avevamo dato contributi formativi didattici che questi ragazzi si erano portati a casa e che spendevano in altre cose non solamente nel capite in queste lezioni di zonotopologia didattica questo per me è fondamentale perché se io voglio insegnare qualcosa a un cane o a un gatto non posso lavorare esclusivamente sulla legge dell'effetto non posso lavorare solo sul bocconcino non lo posso fare in realtà devo sviluppare il gioco devo sviluppare l'interesse l'esperienza la curiosità le emozioni devo lavorare sui problemi sulla voglia di risolvere un problema cioè devo cercare di creare una condizione di apprendimento adeguata adeguata e questo ha fatto sì che mi ha fatto dire oggi noi lavoriamo meglio con i cani con i gatti piuttosto di come lavorano molto spesso a scuola non dico tutti sono degli insegnanti stupendi ma sono insegnanti stupendi perché loro sono stupendi non perché gli hanno insegnato gli hanno costruito una didattica adeguata perché loro umanamente sono persone di questo tipo e succede che a volte quando tu porti tuo figlio a scuola ogni tanto hai veramente un culo incredibile di trovare un insegnante così ma è una fortuna incredibile impagabile non c'è niente di più importante di trovare un insegnante così e sono stati quegli stessi insegnanti che mi hanno creato la voglia l'interesse l'entusiasmo e io li ringrazierò sempre nella mia vita sempre perché a volte erano insegnanti del doposcuola insegnanti che magari non erano oppure dei giovani insegnanti senza neanche un contratto ancora mi ricorderò sempre un insegnante di scienze che era giovanissima che era precaria eppure che forza quanto mi ha trasmesso quella persona ecco io dico che questo è l'aspetto importante cioè gli altri animali a volte ci insegnano come dovremmo essere ma non da un punto di vista morale ma il fatto di capire che per esempio i mammiferi imparano giocando imparano emozionandosi imparano quando sono curiosi sono interessati non imparano forzosamente ecco quindi che essere animali significa per me qualcosa di più significa anche cercare di comprendere meglio cosa siamo noi quali sono le nostre caratteristiche e l'importanza di vivere in mezzo alla natura e che io penso che questo sia importante cioè vivere in mezzo alla natura avere la voglia di osservare questo mondo meraviglioso che purtroppo stiamo distruggendo grazie secondo me è l'occasione per fare una vera conversazione se non hai molto tempo però sarebbe bello avere delle domande io in realtà poco tempo no a che ora ce l'hai scusami non mi ricordo mezz'ora prima beh io preferisco sempre stare a quattro tante però adesso non posso io avevo una o due domande però forse le faccio o rompo il ghiaccio oppure a me interessa molto ruotare intorno al tema dell'alterità perché Greta per me è un'occasione proprio di osservazione di guardare il mondo da un livello diverso proprio fisicamente e quindi mi chiedo se mi chiedo se c'è un modo proprio per un po' svuotarsi cioè provare a osservare questi animali forse una riflessione più che una domanda una domanda a me stessa osservare questi animali senza già porsi la questione di dove sono sono io come essere umano in relazione a loro cioè provare proprio a stare in questa pura osservazione e a ricollocarmi e a ricollocarmi forse per ricollocarmi questa è una riflessione non so se l'ho resa no perché è un aspetto importante allora innanzitutto quando ci troviamo di fronte a un soggetto di un'altra specie è molto importante conoscere prima di tutto prima di porsi in una situazione di questo tipo cioè la conoscenza ci aiuta ci aiuta moltissimo altrimenti noi rischiamo di avere una visione proiettiva cioè noi tendiamo a proiettarci molto nell'altro quindi è utile secondo me avere delle conoscenze è utile avere quella tendenza socratica di porsi delle domande questo è molto molto importante di avere proprio quella umiltà no delfica di non sapere secondo me è proprio il punto di partenza rispetto a questo quindi una conoscenza un leggere il più possibile quanto è possibile rispetto a che cos'è un gatto che cos'è un cane eccetera cercare di capire la storia di quel soggetto come può aver vissuto fino a quando è venuto in contatto con noi e partendo da questo da questa conoscenza porsi in silenzio e cercare di comprendere quello che è la sua prospettiva sul mondo osservandolo molto e quindi certamente l'osservazione però l'osservazione è fruttuosa se c'è qualcuno che ci insegna anche qualcosa cioè che non partiamo da zero perché altrimenti rischiamo di non arrivarci mai a vedere una certa cosa Allora premesso che è importante studiare e conoscere e non umanizzare gli animali oggi per la prima volta mi è venuto un pensiero ascoltando i suoi discorsi ma non è una cosa istintiva umanizzare l'altra specie come fa l'animale in qualche modo verso di noi cioè un gatto non si rende conto che noi magari siamo cioè pensa che siamo magari dei gatti strani piuttosto che il cane pensa che siamo dei cani strani e l'animale pensa che siamo degli animali come lui soprattutto penso al cane e al gatto capito mi chiedo ci sono tante dicerie magari il gatto pensa che sei un gatto grande era una domanda certo ho capito allora ci sono due forme di antropomorfismo un antropomorfismo se vogliamo di medesimazione per cui noi è evidente che tendiamo a umanizzare a vedere negli altri a cercare negli altri attraverso la nostra ottica attraverso il nostro obiettivo e questo è un aspetto normale che molto probabilmente è presente anche nel cane e nel gatto cioè semplicemente una tendenza alla proiezione all'immedesimazione ma l'antropomorfismo dell'essere umano non è solamente una proiezione l'antropomorfismo dell'essere umano è anche legato a una cultura antropomorfica cioè anche legato al fatto che oggi siamo bombardati da animali antropomorfizzati nella cultura pensiamo solamente siamo tutti venuti su con i lungometraggi di Walt Disney e fin da quando eravamo piccoli e questo ci ha fortemente colpito siamo venuti su tutti leggendo le storie di Beatrix Potter e siamo venuti su attraverso i corti di Anne Barbera siamo cresciuti con le fiabe siamo cresciuti con i pupazzi e questo è un aspetto culturale cioè qualcosa comunque che ha avuto un impatto un retaggio su di noi quindi diciamo che ci sono due aspetti uno è proiettivo è normale l'aspetto proiettivo è sempre duplice nel senso che è sempre immedesimo ma nello stesso tempo capisco che sei diverso l'aspetto invece ideologico culturale ha una persistenza molto forte perché siamo cresciuti con una certa cornice culturale cosa che non avevano i nostri nonni i nostri nonni quella cornice lì non ce l'avevano non era così forte oggi i bambini vengono su abbiamo parlato di cultura analogica che ha caratterizzato un po' la seconda parte del novecento e oggi addirittura abbiamo una cultura ancora più immersiva perché la cultura digitale non è più fatta nemmeno di cose di oggetti ma è fatta di immersioni e questi i ragazzi che sono nati negli ultimi vent'anni sono completamente immersivi nella tecnologia non hanno più una visione analogica delle cose come potevamo noi avere la macchina fotografica il giradischi il libro cioè elementi che davano ancora una esperienza pratica perché quando tu sviluppavi una fotografia nella camera oscura avevi una certa sensorialità degli acidi avevi la luce rossa quando mettevi su un disco di vinile c'era tutto un rituale del disco il libro appena comprato lo annusavi cioè c'è un certo l'analogico ha una certa cultura il digitale è una cultura completamente diversa nel digitale ti muovi tra spazi tra dimensioni diverse perché nel digitale leggi ascolti guardi vedi un film come vedi delle fotografie ti interagisci con le altre persone e ragazzi di oggi sono incredibili su questo hanno un cervello che è cablato diversamente almeno dal mio completamente diverso cioè io devo sforzarmi per cercare di capire come si entra lì loro entrano lì come un un indio dell'amazzonia si muove nella foresta e questo è la differenza solo che questo ha aumentato la ricaduta dei prodotti culturali perché tutto ciò che c'è nel mondo virtuale è un prodotto culturale è prevalentemente un prodotto culturale qualcosa che l'uomo ha confezionato anche se un documentario ha confezionato perché noi pensiamo che i documentari siano assolutamente come dire naturali quello che fanno gli animali no c'è un montaggio c'è una scelta molto spesso c'è ci sono delle tecniche per fare in modo che gli animali facciano determinate cose quindi in realtà sono prodotti culturali sono tutti prodotti culturali questo ha creato nella mia generazione e nella generazione delle persone che sono andate insomma anni 70 anni 80 anche anni 90 un mondo prevalentemente analogico che quindi non è più contatto diretto quello di oggi degli ultimi 25 anni è assolutamente un mondo totalmente digitale totalmente digitale cioè io ho una figlia che ha 13 anni mi ricordo che quando era piccola si muoveva sull'iPad come se fosse era piccola piccola eppure ta 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 era già dentro cioè una cosa che io non sapevo fare lei appena nata sapeva fare cioè è un altro mondo mondo completamente differente io penso che la nostra generazione nemmeno capisce completamente però il fatto è che tanto l'analogico basso in una forma più ridotta ma soprattutto digitale ha creato una cornice una cornice esperienziale perché le nostre esperienze non sono esperienze così spontanee innate ma sono esperienze che sono già consolidate all'interno di culture particolari e noi ci muoviamo all'interno di questo l'antropomorfismo è profondamente ideologico oggi non solamente una cosa normale cioè proiettiva dimmi vorrei allacciare tutto il discorso però forse farò un po' di confusione perché io mi tratta domande riflessioni che mi sono capendo e di tutto l'antropomorfismo mi sembra sia descritto sempre in termini mi sembra sia descritto sempre in termini un po' negativi però non potrebbe essere anche che l'antropomorfismo potrebbe avere diciamo cogliere qualcosa negli altri animali finalmente capire che siamo molto simili a loro proprio evolutivamente parlando perché non abbiamo delle caratteristiche che solo noi ce le abbiamo oppure magicamente sono nate così magari in nuce c'erano già anche nei rettili faccio per dire certo certo io ho capito quello che vuoi dire e hai perfettamente ragione io tendenzialmente quello che dico è attenzione distinguiamo l'antropomorfismo da invece il fatto che che sempre nel rapporto con un'altra specie c'è una cocktail una melange di tratti di somiglianza e tratti di differenza perché questo è l'evoluzionismo no? cioè a differenza della concezione essenzialista per cui ogni specie è stata costruita di per sé la visione evoluzionista è una visione di progenitura quindi è chiaro che tutti i mammiferi si assomigliano perché hanno un progenitore comune cioè tutti i mammiferi hanno delle tendenze fortemente parentali tutti i mammiferi hanno la neocarteccia e quindi hanno una forte tendenza all'apprendimento tutti i mammiferi giocano cioè i mammiferi si assomigliano tutti perché hanno queste caratteristiche comuni dopodiché ci sono caratteristiche anche vicine ai rettili perché i rettili comunque i mammiferi così come gli uccelli discendono dai rettili quindi diciamo che alcune caratteristiche dei rettili sono ancora presenti in noi nel cane nel gatto nella gallina eccetera perché erano già presenti nel progenitore rettile c'è un bellissimo libro piuttosto che non è stato tradotto purtroppo ma molto bello che si chiama The Inner Fish cioè il pesce che c'è in te che dimostra come effettivamente ancora molte caratteristiche dei pesci sono presenti nell'essere umano quindi certamente il cocktail di somiglianze e differenze è direttamente proporzionale cioè le somiglianze sono direttamente proporzionali a due caratteri a due aspetti il primo è l'ascendenza comune per cui quanto più è vicino l'alterità animale da un punto di vista filogenetico tanto maggiore sono le somiglianze per cui è evidente che uno scimpanze avrà molte più somiglianze che un cane rispetto a noi perché proprio è una questione di omologia cioè di somiglianza per ascendenza comune cioè abbiamo un progenitore molto vicino per quanto uno dice 6 milioni di anni sono un niente da un punto di vista geologico visto che ci muoviamo su miliardi di anni e l'altro è l'analogia cioè quando due specie sono state sottoposte alla stessa pressione selettiva molto spesso presentano delle caratteristiche simili non per ascendenza ma per convergenza adattativa come può essere che ne so la socialità collaborativa del cane è la socialità collaborativa dell'essere umano cioè non sono sovrapponibili noi sbagliamo quando pensiamo che sia la stessa dimensione sociale non sono sovrapponibili ma si assomigliano un po' come le ali di un uccello assomigliano alle ali di un pipistrello queste sono analogie avrei tre domande la prima scelgine una quella importante scelga lei il rapporto degli animali con la malattia e la morte una parola se vuole sulla sterilizzazione e una parola sugli insetti allora se dovessi dire quello che io sarei portato a dirti sono gli insetti perché sono sempre state la mia grande passione devo dire lì fai fatica ad antropomorfizzare cioè quando vedi l'amante di religiosa femmina che si mangia la testa del maschio durante l'accoppiamento fai fatica a voglio dire immedesimarti soprattutto i maschietti fanno un po' fatica d'altro canto è anche vero che senza testa la mantide maschio si accoppia più vigorosamente e allora qui capisce anche delle cose che riguardano noi maschietti e poi effettivamente la femmina dopo l'accoppiamento fa quel suo astuccio che si chiama oteca proteico glicoproteico particolarmente dispendioso per lei infatti muore in realtà in realtà ha trasformato il maschio nella casa dei suoi piccoli quindi in un certo senso anche noi paghiamo il mutuo quindi è un modo per pagare il mutuo sostanzialmente no? ma poi mi hanno sempre affascinato soprattutto gli menotteri cioè le formiche le api i calabroni soprattutto gli menotteri sociali perché hanno un'intelligenza collettiva un po' come Star Trek hanno questa intelligenza collettiva per cui l'intelligenza non è nel singolo ma è proprio lo sciame un'intelligenza sciame si muove lo sciame ha una sua intelligenza ed è pazzesco studiarla perché gli individui di uno sciame sono collegati esattamente come i neuroni nel nostro cervello per quanto riguarda la sterilizzazione beh quando parliamo di animali liberi come avvengono in tante regioni non tutte ma in alcune regioni d'Italia ci sono tanti animali liberi è utile sterilizzare proprio per evitare che ci sia una riproduzione incontrollata quindi diciamo che la sterilizzazione è fondamentale per il contenimento delle nascite devo anche dire che per la gatta per la propria costituzione la sterilizzazione è importante perché la gatta non ha un'ovulazione data da un picco di estrogeni come nell'essere umano nel essere umano al quattordicesimo quindicesimo giorno il picco di estrogeni produce l'esplosione del follicolo nella gatta no il follicolo scoppia solo se c'è accoppiamento quindi una gatta che non si accoppia va incontro a delle cisti ovariche e va incontro a una situazione molto problematica per lei per cui più o meno ogni tre settimane va in calore ed è ovviamente lo vedi quanto soffre quindi se una gatta è libera può accoppiarsi un conto una gatta che viceversa gli crei questa situazione qui non devi proprio antropomorfizzare avevi fatto un'altra domanda allora la morte è un argomento difficilissimo da capire è molto difficile non so se un domani riusciranno a fare questa domanda ma per ora sono tutte le ipotesi possono essere valide certamente gli animali vivono il lutto e lo vivono profondamente cioè se un due animali sono legati tra di loro e l'ho sperimentato anche personalmente se muore l'uno dopo un po' muore anche l'altro cioè c'è proprio un legame fortissimo e questo significa che c'è proprio questo senso di perdita sappiamo che alcuni animali si portano dietro il cucciolo morto per giorni per mesi quindi diciamo che la perdita il senso di lutto è molto forte quindi non ti saprei dire se cosa sanno se sanno della morte ma sanno sicuramente e soffrono sicuramente il lutto diciamo che tendenzialmente quello che ho potuto notare è tutti gli animali che hanno cure parentali quindi non solo i mammiferi ma anche gli uccelli sono fortemente sensibili rispetto a questo vai da qualche tempo a questa parte in alcune scuole ho notato ho visto lavoro in questo settore diciamo ho visto come dirò dei progetti un progetto che si chiama pet therapy non so se lei lo conosce immagino già quale sia la sua però è un progetto molto cercato molto sì perché generalmente generalmente se fai una cosa seria non te la guarda nessuno per dirle in maniera buona se fai una stupidaggine va via come il pane allora tutti molti psicologi e io ho litigato per anni confondono innanzitutto la relazione con il tuo cane il tuo gatto con la pet therapy per cui consigliano a una persona che magari ha un figlio con alcune problematiche eccetera di adottare un cane e un gatto è una stupidaggine è una stupidaggine sarebbe come se hai un problema che tu ti andassi a sposare uno psicologo uno psichiatra cioè non ha senso la relazione è una cosa completamente diversa da delle sedute delle sessioni terapeutiche sono due cose completamente diverse se tu hai una situazione già problematica in casa aggiungere un altro problema non ti aiuta e lo dimostra il fatto che una montagna di cani e di gatti sono finiti nei gattili e nei canili proprio per questa scelta assurda la pet therapy non è adozione di un animale non è adozione di un animale ma gli interventi assistiti dagli animali sono delle sessioni che vengono fatti su uno o alcuni pozzenti quindi non un gruppo classe non può essere un gruppo classe quella è zona antropologia didattica è un'altra cosa e l'ha fatto attraverso delle sedute dove c'è un operatore formato con il suo cane o gatto quello che è altrettanto formato per fare questo tipo di attività l'attività dura circa 45 minuti di questi 45 minuti l'animale in realtà sta in seduta per un tempo molto inferiore ed è una seduta che si basa sul fatto di andare a vedere quali sono i bisogni di quel paziente e quali sono le fragilità di quel paziente e andare a fare delle attività che aiutino il raggiungimento di quegli obiettivi e che evitano di andare a peggiorare le fragilità di quel paziente quindi non è che si fanno delle relazioni così a lei perché perché se è un bambino con dei disturbi in deficit di attenzione e concentrazione con una tendenza all'ipercinesi e all'iperattività se è un bambino di queste caratteristiche gli do un cane da solo che cosa farà che attività farà farà dei giochi eccitatori io vorrei fare una provocazione sì però lasciami finire perché è importante un anziano che ha l'ansia da cura se tu gli dai un cane farà attività di cura quindi questa cosa che spontaneamente si fa la cosa migliore è assolutamente sbagliata non è vero non è vero cioè se una persona ha una fragilità la fragilità è la prima che viene fuori io ho lavorato all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia gli OPG che ora mi sembra che li abbiano chiusi è ancora aperto all'OPG di Reggio Emilia la criminologa e lo psichiatra mi hanno detto fate tutto ma non giochi di finzione e quando sono andato a lavorare i primi giochi che venivano fuori su cui bisognava deviare l'attenzione erano proprio giochi di finzione quando c'è un problema purtroppo quello è il primo che viene fuori quindi queste attività devono essere arbitrate correttamente se non vogliamo andare a esercitare proprio le problematiche quindi questa idea che spontaneamente le cose vanno sempre al posto giusto è l'ennesima visione New Age l'ennesima visione per cui dal cane emana energia positiva dico mica un GLED cos'è emana energia positiva o quell'altro ha detto il gatto se è obeso perché in casa c'è lo stress perché assorbe lo stress dice no assorbe i crocantini che gli dai altro che lo stress allora abbiamo questa idea magica che è un'idea zootecnica per cui è vero le galline ovaiole fanno le uova le bovine ostein fanno il latte sì ma la relazione è un'altra roba non è una prestazione e tu devi essere in grado di gestire questa situazione perché altrimenti ti assicuro va sempre nel peggio non nel meglio volevi dirmi? no la provocazione è che la relazione ha la caratteristica di essere imprevedibile certo ma è l'operatore quindi assistendo a delle sedute di gruppo quello che ho notato è che si mette la parola addestramento rispetto al cane cosa che per il cane non lascia spazio di imprevedibilità di relazione quindi ho la sensazione che la risposta a certi gruppi di classe o gruppi di fragilità o di vulnerabilità la dobbiamo dare noi come specie umana quindi ho come la sensazione che cadiamo ancora una volta nell'utilizzo no l'adestramento tu cura perché il cane deve rispondere no questa è la sensazione che spesso ho avuto no ma e allora per fare qualunque vedi per fare qualunque attività però tu devi avere delle competenze cioè allora però il cane si esprime lì? si esprime ma sulla base di competenze non è che si esprime a caso rendiamoci conto che quando tu sei a fare una certa attività una competenza ce la devi avere cioè provi a immaginare solamente di fare un'attività con un cane che si trova in grossa difficoltà essere messo a interagire con delle persone estranee cioè quel cane lì per me deve fare un altro tipo di attività non può fare quell'attività dove io lo metto in difficoltà gli do stress e questo stress poi viene fuori allora io devo valutare ma vedete non è neanche il cane ma anche l'operatore stesso cioè quando siamo andati all'OPG c'erano delle persone che dicevano tranquillamente no no per me fa benissimo io e delle persone dicono ma non lo so andare a fare un'attività all'OPG perché è un carcere e in più di più è un manicomio un manicomio criminale c'aveva delle caratteristiche io lavoravo con un ragazzo che aveva sterminato tutti i suoi amici che aveva appena ucciso il suo compagno di cella quindi provate a immaginare quanto tranquillo ero quando ho detto andiamo in piccionaia insieme ho guardato la guardia ci viene anche lei cioè quelli che erano strassicuri finita la cosa non ci veniamo più quelli che erano lì tintinnanti molti di questi hanno detto no no mi sono sentito bene cioè non lo sai siamo prima di tutti noi io sono andato a lavorare a Malpighi con dei ragazzi terminali dei bambini che avevano un tumore erano terminali io ho detto non ce la faccio cioè non ce la facevo ed è inutile che io faccia una cosa se non ce la fai se stai lì e si vede che stai male lì devi avere qualcuno che è capace di stare questo e anche il cane è così non posso pretendere a un cane di fargli fare un'attività e non si tratta di addestrarlo a un'attività quanto piuttosto di valutare se è in grado di stare in quella situazione questo bisogna fare dopodiché arbitrare non significa fare delle attività in maniera falsa ma sapere sapere quali attività evitare se si presentano come chiuderle non bloccarle ma come deviare l'attenzione perché se io vedo un anziano ansioso e lo lascio che faccia delle attività di cura poi me ne vado via quella persona per tutta la notte starà male perché gli ho fatto fare un'attività che va a collidere con le sue fragilità quindi bisogna fare molta attenzione a non pensare che le cose magicamente vanno al proprio posto perché purtroppo non è mai così vai che ore sono adesso dai ultima domanda ok provo a mettere insieme i pensieri abbiamo parlato di cura della parentale cura della parentalità avevi detto prima rispetto a certi genitori cura parentale scusami la tendenza parentale la tendenza genitoriale epimelesi volevo chiederti in ottica anche di sopravvivenza della specie credo che forse è più forte non nel nostro mondo umano volevo chiederti quanto forte è il senso della famiglia o se si può estendere anche alla non famiglia cioè alla collettività anche nella stessa specie voglio dire ma non famiglia di sangue allora noi dobbiamo pensare che le tendenze nascono perché sono state funzionali a una certa cosa ti faccio un esempio noi abbiamo dei cuccioli molto immaturi l'essere umano nasce molto immaturo se non lo paragoniamo allo scimpanzee è estremamente immaturo l'essere umano pensate che solo la testa il volume encefalico nello scimpanzee raddoppia e nell'essere umano quintuplica abbiamo le ossa craniche non ancora saldate le cosiddette fontanelle non riusciamo neanche a tenerci aggrappati ma non riusciamo un bambino appena nato non riesce neanche a tenere sulla testa il suo cervello non è mielinizzato è un cervello ancora grigio tutta la parte bianca cioè della mielina che è fondamentale per l'organizzazione motoria manca quindi è chiaro che una specie che fa un cucciolo così immaturo e che ha un'età evolutiva così lunga deve anche sviluppare le sue capacità genitoriali sei d'accordo? cioè se no fai un cucciolo immaturo e te ne freghi dei cuccioli cioè sei finito ti estingui subito cioè sono due caratteri che crescono insieme non può essere che cresce l'uno e non l'altro ora se tu sei molto portato per l'epimelesi cioè se tu sei molto portato per la cura l'adozione sei sensibile a questa cosa esattamente come un gatto è sensibile alla pallina che si muove a rincorrere se tu sei molto portato a prenderti cura Coral Lorenz scopre che i mammiferi e gli uccelli hanno il cosiddetto baby schema cioè i cuccioli hanno delle caratteristiche comuni quindi potremmo dire che la tua tenerezza che provi in confronti di cuccioli di altra specie non ha alcun senso adattativo si è adattata in senso al fatto che tu hai cuccioli immaturi quindi non ha senso adattativo come non ha senso adattativo rincorra una pallina c'è un vantaggio c'è rincorra una pallina zero ok si chiama effetto collaterale cioè un effetto collaterale quando una motivazione è molto forte tende a esprimersi anche in altre situazioni ok è un effetto collaterale ed è molto importante questo perché molti pensano il gatto rincorre per mangiare no la sua tendenza a rincorrere si è evoluta perché questo lo rendeva più capace di mangiare ma ora il gatto si ritrova con la tendenza a rincorrere e se anche tu gli metti la ciotolina piena questo non come dire spegne la sua voglia di rincorrere chiaro sono effetti collaterali dobbiamo sempre pensare che un conto è cosa ha prodotto quel carattere e un conto è cosa quel carattere determina nel soggetto l'ho detto chiara cioè il fatto che noi siamo molto epimeletici fa sì che noi siamo sensibili anche ai richiami di cuccioli di altra specie che non ha nessun senso adattativo perché è normale è normale perché siamo molto sensibili e il baby schema è in grado di suscitare in noi il comportamento epimeletico va bene io vi saluto vi ringrazio e chi vuole una firma sul libro mi metto là